cari amici oggi io sono qua per proporvi un'iniziativa veramente molto ma molto ma molto importante sapete qual è dovete andare a donare il sangue e sì perché sembrerà strano però se ognuno di noi lo facesse si riuscirebbe a salvare la vita di moltissime persone quindi ragazzi fatelo per me fatelo per voi fatelo per tutte le persone che non conoscete ma che hanno bisogno del vostro sangue ma anche di tutti quelli che avranno il cuore grande per poter fare questa piccola azione cercate un centro avis entrate dentro in cinque minuti vi tolgono un po di sangue e magari il vostro sangue servirà per salvare una vita umana fatelo come lo faccio io fatelo anche voi grazie vi aspetto ciao 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 ciao